terza partita qui alla palla che cosi sfida no a s di roma contro tolfa a luniera sesto minuto calcio di punizione pericolosissimo per la roma lo batterà piras si attende tutto il fischio del direttore parte numero 13 tiro è rete passa in vantaggio s di roma al sesto minuto risultato unico e si sblocca palla che passa il pallo fortunoso e arriva anche il 2 a 0 la doppia da roma di nuovo un piros Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fatica proprio a uscire. Fatelo lo fa. Dara, proprio vedo a capo. Ancora alimenta l'azione d'attacco. Bellissimo. Così, mezzo di testa. Palla che è lì. Piras ha provato a trovare anche la quarta rete personale, il poker. E' l'attenzione. Non ho detto, non ho detto, non ho detto. Non ho detto. bella bella questa, è arrivato il 4 a 0 per una bella azione torale, finalizza il numero 116, su questo gol finisce il match 4 a 0, numero 9 assegnato.